33 anni, una grande passione per lo sport, una vocazione per il volontariato e centinaia di chilometri macinati da quando di anni ne aveva 19. Lui è Pietro Moro, maratoneta iscritto dal 2014 al club ASD Podistica di Policoro, tanto agonismo ma soprattutto il pallino dell'impresa. Come quella che sta portando avanti ormai da fine maggio in Basilicata, 500 chilometri che alla fine saranno sicuramente di più, 23 paesi lucani attraversati in 15 giorni. Tutto nel nome dell'Avis, per una corsa, il caso di dirlo, alla sensibilizzazione per chi ancora non ha conosciuto la ricchezza della donazione del sangue. Noi lo abbiamo incontrato nella tappa conclusa a Francavilla sul Sinni, accolto dalla locale Sezione Avisina. Pietro, allora questa grande impresa, come ti è venuta l'idea? Allora è nato tutto per gioco in realtà. Allora volevo rendere la mia impresa sportiva al servizio di una realtà associativa, importante appunto come Avis. Quindi legare appunto lo sport alle donazioni. Il modo più importante, diciamo, il modo più sincero era questo, legarlo appunto a un'associazione come Avis. Il messaggio appunto che porto a tutte le locali, alle 23, 23 per ora, 23 locali della Basilicata, è appunto quello di incentivare le donazioni di sangue. E legare lo sport alla donazione, specialmente ai più piccoli che appunto si affacciano al mondo dello sport, se vorrebbero farlo. E insieme allo sport legare appunto la donazione. Ho incontrato comunali Avis, gente veramente squisita, nuove conoscenze, quindi quello permettono sempre, giorno per giorno, di crescere anche a livello umano, grazie a questa impresa.